bentrovati bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi.it oggi facciamo un esercizio pratico dopo aver visto nelle scorse lezioni come si crea la trasparenza in after effect usando le maschere usando il chroma key usando le maschere di luminanza oggi cerchiamo di fare qualcosa di pratico e in particolar modo giocheremo un po con le maschere per mostrare come queste possono essere utilizzate non solo per nascondere qualcosa ma anche per rivelare qualcosa sempre con la trasparenza giochiamo sempre con il canale alfa nascondiamo e svegliamo sempre qualcosa però lo scopo di questa esercitazione è svelare un testo al passaggio di un piede una cosa molto semplice in realtà non stiamo facendo niente di eccezionale però vedremo come lavorare con le maschere per creare questo effetto o ricordo che questo è un video tutorial del corso introduttivo ad after effect quindi se vi siete persi tutte le lezioni di questa introduzione a questo bellissimo software recuperate le qui su questo canale youtube e iscrivetevi ovviamente anche per non perdere i prossimi video ricordo questo è un corso introduttivo quindi non impareremo a fare cose eccezionali stiamo insegnando questo software a chi non ci ha mai messo mano in vita propria quindi ecco partendo dalle basi siamo già arrivati a un buon punto questo è il modulo avanzato bene torniamo a noi cosa facciamo quest'oggi lo abbiamo visto cerchiamo un po di analizzare però la situazione vi ho detto che questa questo questo effetto sfrutta la capacità delle maschere di nascondere o svelare qualcosa e beh se analizziamo quello che accade qui potrete vedere che io sto proprio utilizzando le maschere per svelare il testo io ho applicato una maschera al testo che ho creato ecco questo è il livello del testo questa è la maschera ok e animando la maschera in sincrono con il movimento del piede creo l'illusione che il piede nasconda qualcosa e poi sveli la scritta in questo caso quando va via e quindi lascia lo spazio lo spazio vuoto lo spazio libero quindi prima cosa da imparare è a utilizzare le maschere per svelare qualcosa animandole ok un'altra cosa che impareremo in questo tutorial analizzando quanto fatto fin qui è come creare una finta ombra vedete che questo è questa è una scritta è una scritta assolutamente in 2d ok di 3d non ha assolutamente niente però giocando un pochettino con il 3d di after effect sfocando la scritta dandogli una tinta più scura questa era è una copia esatta della scritta foot sfocata e con un colore più scuro ruotata per allinearla per quanto possibile in maniera totalmente come si dice imprecisa però verosimile al terreno abbiamo creato l'illusione come potete vedere di una finta ombra anche chiaramente l'ombra ha una maschera ok per fare in modo che non sia sempre presente ma si sveli al passaggio del piede e chiaramente poi c'è un filino di color correction per rendere tutto un pochettino più cinematografico di poco è però qualcosina abbiamo fatto beh siamo partiti da un video simile a questo quindi molto breve molto semplice un piede che passa e va via e noi giochiamo con questo video per creare questa piccolissima simulazione questo piccolissimo effetto di svelamento ok cominciamo dal principio ormai siete bravissimi anche voi come si fanno queste cose lo sapete creiamo una nuova composizione con le caratteristiche che vogliamo non fatela durare troppo 30 secondi sono anche eccessivi tre secondi per quello che dobbiamo fare vanno più che bene ed ecco la nostra composizione prendiamo il nostro video e lo portiamo direttamente in timeline piccolo problema eh sì già avrete capito il video dura molto meno rispetto alla mia composizione come faccio ad allungarlo beh questo in realtà è un video originale che dura molto di più però come potete vedere ci sono altre immagini che io non voglio quindi ho ritagliato un pezzettino e voglio fermare il video in questo punto in after effect si può mappare il tempo in sostanza aggiungere dei keyframe al nostro video per fermare l'avanzare del tempo in un fotogramma preciso ora non mi dilungo troppo su come si fa questa e come si usa questa tecnica fate quello che faccio io per il momento e fidatevi poi magari in futuro ci torneremo posizionatevi alla fine del video premete ctrl alt e t per accedere alla mappatura del tempo vedete che se non lo vedete ve lo mostro qui c'è un keyframe finale questo keyframe finale sostanzialmente indica la fine del video quindi il timecode finale io aggiungo un timecode a questa posizione vedete qui c'è esattamente il momento temporale in cui si trova qui il mio video in questo fotogramma non devo far altro che copiare questo keyframe sull'ultimo keyframe ctrl c ctrl v questo punto allungo il video e vedrete che il video ecco se avete fatto bene non come me ci posizioniamo sopra ctrl v ecco qui avete se avete difficoltà con il copia incolla copiate questo valore qui sia su questo fotogramma sia su quest'ultimo fotogramma e in questo modo fate in modo che come potete vedere l'avanzare del tempo si fermi ok ci torneremo su questo concetto non vi preoccupate quello che stiamo facendo credo sia abbastanza chiaro ctrl alt t per accedere a questa funzione giocate con il keyframe vedete che in realtà è molto più semplice a farlo che che a spiegarlo lo scopo comunque quello di prolungare il nostro video e farlo durare quanto vogliamo fermandolo sull'ultimo fotogramma perfetto a questo punto creiamo una scritta per esempio con control t accediamo allo strumento testo e scriviamo text ok centriamo il nostro testo come siamo già abituati a fare con lo strumento per allineare gli oggetti in after effect e quello che dobbiamo fare adesso è iniziare a giocare con le maschere cosa dobbiamo fare e che cosa dobbiamo mascherare non dobbiamo mascherare il piede dobbiamo mascherare la scritta text ok quindi seleziono il livello del testo e prendo la penna attivo la penna e comincio a disegnare una maschera che deve essere sì più o meno precisa soprattutto in questa zona ma non deve essere precisa in maniera maniacale il mio consiglio è nei punti ovviamente dove è più delicata la situazione dove c'è il testo dove il testo verrà svelato cercate di inserire più manipolatori più puntini per capirci in maniera tale che poi quando andremo ad animare avremo più oggetti da poter utilizzare per l'animazione vi sarà chiaro tutto tra un pochissimo chiudiamo ovviamente la nostra maschera e dobbiamo fare un'altra cosa importante dobbiamo invertire la maschera perché invertiamo la maschera se ricordate la lezione sulle maschere vi ho insegnato che tutto quello che cade all'interno della maschera viene reso visibile quello che cade all'esterno viene nascosto noi vogliamo esattamente il contrario quindi invertiamo la maschera e vedete che il nostro testo è sparito oh adesso comincia la parte noiosa dobbiamo animare questa maschera fotogramma per fotogramma innanzitutto accendiamo i fotogrammi sul tracciamento sul tracciato della maschera in maniera tale che possiamo animare questi puntini e con i tasti page up e page down della tastiera avanziamo o retrocediamo di un fotogramma alla volta ok possiamo anche andare con il mouse qui sulla timeline ma è più scomodo tastiera prima di tutto quindi un fotogramma alla volta ricordate come si manipolano le come si manipolano le le maschere torniamo con lo strumento selezione clicchiamo fuori e a questo punto possiamo cliccare sui 5 singoli punti della nostra maschera per fare questo lavoro noiosissimo di rotoscoping se cercate tra i tutorial di questo canale youtube troverete anche spiegato come utilizzare il rotoscoping automatico in after effect ora noi vogliamo farci del male e lavorare un punto alla volta perché questa lezione è dedicata alle maschere e non al rotoscoping automatico però sappiate che nelle ultime versioni di after effect c'è la possibilità insomma di fare questo lavoro in maniera un pochettino più automatica ok e viene spiegato tutto nel dettaglio come potete vedere io non sono super preciso soprattutto in questi momenti quando ancora il testo non è visibile cercherò di essere un po più preciso appena il testo chiaramente verrà verrà mostrato ecco quando vi dicevo aggiungete molti puntini mi riferivo a questa situazione qui vedete qui abbiamo una parte del pantalone che si muove ondeggiando e quindi quando bisogna seguire delle variazioni di posizione così brevi bisogna avere molti punti con cui lavorare non dovete essere super precisi fino a qui qui dobbiamo iniziare essere un po più precisi quindi prendiamo la nostra maschera cerchiamo di fare in modo soprattutto quando cominceremo a vedere eccolo qui il testo di essere il più attenti possibile a dove mettiamo i punti ricordandoci ovviamente che noi possiamo sempre e lo faremo sfumare leggermente questa maschera ok perché sfumeremo la maschera per fare in modo che diciamo il testo che compare sia un pochettino più morbido ok vi farò vedere tra un pochino quello che intendo nel frattempo io vado avanti veloce per risparmiarvi questo lavoro che credetemi può durare un pochettino ed è sicuramente un po noioso prima di accelerare vi faccio notare come qui devo essere sì preciso ma posso permettermi un grado un piccolo grado di imprecisione qui dove il testo inizia ad essere mostrato devo essere invece il più preciso possibile per evitare insomma artefatti o spiacevoli effetti collaterali nel utilizzare questi punti andiamo avanti veloce tra pochissimo vedrete il risultato finale eccoci qui siamo tornati ho fatto uno scontorno veramente rapido per mostrarvi quello che dovete fare voi invece in maniera più precisa della mia però vedete che l'effetto è quello che volevamo la maschera ci svela il testo o quando dicevo attenzione ad essere precisi vedete che qui io non lo sono stato preciso no quindi se vi accorgete di questi errori ovviamente tornate sulla maschera e correggete quando vi dicevo anche aggiungete molti punti in cui nei punti in cui chiaramente vi accorgete che possano esserci più smagliature e cose del genere perché lo dicevo perché come vedete in questo caso ho pochi punti con cui lavorare e quando si anima la maschera non è mai una buona idea aggiungere i punti in corsa è sempre meglio partire già con i punti giusti però per minimizzare questi errori noi possiamo aggiungere un po di sfumatura alla maschera vedete cosa intendo non esagerate un po di sfumatura ok in questo modo gli errori le imperfezioni magari sono un po più nascoste ok ora ovviamente migliore sarà il vostro lavoro migliore sarà l'effetto finale però devo dire che dai tutto sommato essendo un movimento anche abbastanza veloce ok questa maschera è abbastanza credibile via questo è quello che abbiamo fatto quindi il tutorial delle maschere potrebbe anche terminare qui ma noi vogliamo andare un pochettino avanti vogliamo aggiungere una finta ombra esattamente come il piede vedete il piede ha una sua ombra ecco anche il testo vogliamo che abbia la sua ombra come fare per creare una finta ombra duplichiamo intanto il testo contro di abbiamo due livelli testo ora lo scopo è sostanzialmente sfocare il secondo testo lo possiamo chiamare ombra ok sfocare questa ombra darle una tinta scura e appoggiarla sul terreno vi faccio notare che alcuni effetti se non tutti sul testo non funzionano nel senso che io non posso sfocare il testo applicando un normalissimo effetto di sfocatura devo fare una pre composizione lo abbiamo visto nel corso base cos'è una pre composizione significa prendere il livello in questo caso livello testo e aggiungerlo dentro a un altro livello sfocatura testo ok dentro a questo livello abbiamo il nostro testo originale questa è la pre composizione se non ricordate cos'è recuperate i tutorial passati su questo livello sì che possiamo lavorare con con gli effetti base di after effect quindi andiamo a cercare la voce sfocatura e contrasto scegliamo sfocatura rapida riquadro rapida diamo un valore che non può star bene ora chiaramente spegniamo il testo originale altrimenti ci confondiamo eccolo qua diamo un po di ombra ecco qui e aggiungiamo subito sotto un altro effetto di color correction correzione colore un effetto tinta cosa fa l'effetto tinta vogliamo che il bianco diventi nero ed ecco quello che abbiamo fatto è un po sfocato questo testo accendiamo l'opzione 3d per questo livello e ruotiamo il testo come potete vedere in maniera tale che è chiaramente lo abbassiamo anche in maniera tale che sembri poggiare sul nostro terreno cercate di essere precisi ma non dovete essere maniacali riaccendiamo il nostro livello testo possiamo forse dare un po di sfocatura in più io direi di sì ecco qui fantastico abbassiamo un po l'opacità di questo livello dal 100 per cento portiamola al 75 e forse la tinta completamente nera è un po esagerata potremmo cercare di giocare con i colori per ecco vedete fare in modo che l'ombra abbia un po lo stesso colore del terreno e della nostra immagine ecco che abbiamo la nostra finta ombra del nostro del nostro testo possiamo anche fare 85 per cento per dare un po più di solidità problema problema l'ombra come potete vedere viene svelata ma non benissimo perché ovviamente perché la maschera che abbiamo applicato al al testo funziona con il testo ma l'ombra essendo più in basso vedete qui non viene mostrata invece dovrebbe già essere un pochettino visibile come possiamo risolvere beh è abbastanza semplice andare a risolvere andiamo nella nostra composizione dove abbiamo i keyframe della della maschera del testo annidato nella composizione sfocatura e proviamo ad anticiparli poco poco di due fotogrammi vediamo adesso che cosa è successo se abbiamo migliorato la situazione sì forse basta un solo fotogramma ok vediamo è già è molto migliore ecco qua già è molto migliore si può fare meglio se avete tempo da perdere no potreste chiaramente giocare anche con la maschera dell'ombra per renderla un po più credibile di come lo può essere qui però dai per questo tutorial facciamocelo piacere mandiamo in play ed ecco che la nostra ombra viene rivelata insieme al testo sì lo so non è perfetta ripeto qui dovrebbe essere già visibile probabilmente giocate un po con la posizione oppure se vi accorgete che qui avete bisogno di un po più di ombra modificate la maschera ok dovete non c'è una regola ecco la difficoltà di after effect rispetto ad altri ad altri software e che purtroppo non c'è una strada per punti ovvero che vi insegna a fare così 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 e le cose funzionano automaticamente dovete andare un pochettino a tentativi ok se vi accorgete che avete sbagliato dovete tornare indietro e correggere come sto facendo adesso io per esempio dovete andare un pochettino a esperienza ecco qua si può fare meglio però ripeto ci vuole tempo e adesso non ne abbiamo facciamo finta che vada bene ok ora abbiamo sostanzialmente svelato il testo abbiamo svelato la nostra ombra applichiamo un pelino di color correction che ci piace sempre via nuovo livello livello di regolazione che serve apposta per applicare effetti sopra a tutti gli altri livelli scegliamo l'effetto correzione colore curve ok diamo un po di contrasto ok andiamo ad abbassare un po il blu chiaramente togliendo il blu l'immagine diventa più verdognola quindi togliamo anche un po di verde ok diamo un filino di rosso sbagliando ecco qui un filino di rosso giocate giocate con i colori fino ad arrivare al risultato che volevate ok non esagerate troppo ovviamente altrimenti tutto diventa poco credibile oppure si è dipende quello che dovete fare cioè non c'è una regola in realtà ed ecco qui questo è il nostro video color corretto con il nostro testo svelato con l'ombra quello che volevo dirvi prima di salutarvi è che in computer grafica in generale e nel mondo degli effetti quando volete applicare per esempio un testo come in questo caso se il testo deve essere perfettamente leggibile va benissimo così ma il mio consiglio è che un po di imperfezioni a questo mondo paga sempre una canzone bellissima degli elio le storie tese a sorpresa diceva la perfezione un falso e rende pazzi ecco io sono totalmente d'accordo quindi anche se non è necessario non è necessaria un po di imperfezioni in questo in questa in questo tutorial probabilmente quello che serve quindi vado ad applicare un po di sfumatura al testo poca poca perché vedete che anche il nostro piede non è perfettamente no nitido è anche la nostra il nostro testo non deve essere perfettamente nitido ed ecco che abbiamo il nostro risultato finale ripeto se dovete lavorare con un testo che sia perfetto è un altro discorso però questo è quello che abbiamo fatto come vedete utilizzare le maschere lavorare con le maschere è importantissimo in after effect ecco forse quest'ombra è un po troppo densa un po troppo solida abbassatela ancora un po di più ok forse adesso ancora meglio dicevo dovete giocare e sperimentare l'unico modo per imparare after effect è giocare giocare sbagliare sbagliare e perderci molto tempo mi fermo con questo tutorial cercatemi su facebook cercate fabio ambrosi iscrivetevi a questo canale youtube cercatemi anche su instagram e poi www.fabioambrosi.it anche per i tutorial scritti vecchia maniera grazie mille al prossimo tutorial ciao